Nell'ultima rilevazione dei suoni in fondo all'oceano, gli scienziati ne hanno registrato uno mai ascoltato prima d'ora dall'orecchio umano. Da Paramount Animation e Nickelodeon Movies. Chi vuole i Krabby Patty? La formula segreta dei Krabby Patty è scomparso! Senza quella formula l'ordine sociale sarà totalmente somvertito! Benvenuto nell'apocalisse. E lo solo ti piace al cuoio. Per salvare il loro mondo. Sento odore di Krabby Patty. Dalla superficie. Andiamoci! Dovranno venire nel nostro. Ma che razza di posto è questo? Zucchero filato! Mangiandolo tutto avrete l'energia per fare il giro del mondo! Quando finisce l'effetto dello zucchero? Nel 2015. Krabby Patty! Cosa credi di fare con la mia formula? Vuoi dire la mia formula? Mi succede quando sono nervoso. All'attacco! L'unico modo per fermare un super malvagio... Sogliamolo di mezzo! ...è diventare dei supereroi. It's gonna bring you down! SpongeBob! Vedo una luce abbagliante. Adesso va meglio? Molto. Ti ringrazio. SpongeBob. Fuori dall'acqua. In 3D. La giustizia è un piatto che va servito. Prendo! L'acqua. Sono i ragazzi! Un bel lavoro! Grazie a tutti